Una prestazione aggiuntiva per le diagnosi delle malattie respiratorie dei bambini che va ad arricchire l'attività della pediatria dell'ospedale dell'Aquila grazie alla fertile solidarietà di associazioni e imprenditori. Un nuovo strumento diagnostico, il nasofaringoscopio flessibile, è stato infatti donato al reparto di pediatria del San Salvatore. Il nuovo apparecchio è stato acquistato con i fondi raccolti dal gruppo alpini di Barisciano Ugo Piccinini, che ha 250 soci, con a capo il maresciallo in pensione Antonello Di Nardo e con il contributo della ditta Maico Adiocontro al Centro Sordità di Walter Valloreo. L'atto di generosità di cui beneficia l'ospedale Aquilano assume una valenza particolare poiché consentirà di dotare la pediatria di un macchinario di indagine di cui finora non disponeva. Lo strumento permetterà di fare diagnosi precise e tempestive per le malattie delle adenoidi, della raringe, delle apnee o struttive del sonno. Un'investigazione molto importante perché se fatta tempestivamente evita complicanze l'insorgere di infezioni delle vie respiratorie che nel totale delle patologie dell'età pediatrica hanno un'incidenza del 10%. Il miglioramento dell'assistenza a beneficio dei piccoli pazienti dell'ospedale dell'Aquila scaturisce anche dalla proficua collaborazione tra i reparti di pediatria e Torino, una sinergia che permette di alzare sempre più gli standard di qualità delle prestazioni e di attrarre utenza da fuori. La pediatria, che registra 800 ricoveri l'anno, ha una mobilità attiva per l'arrivo di utenti di altre province abruzzesi che ti astesta attorno al 10%. Va inoltre ricordato che l'ospedale dell'Aquila, unico tra quelli della regione, dispone del pronto soccorso pediatrico che esegue circa 8.000 prestazioni l'anno, fornendo un servizio fondamentale a favore, oltre che degli utenti della provincia, di altre aree d'Abruzzo.